Ciao a tutti, approfitto di una pausa dei lavori d'aula per proporvi alcune riflessioni e spero che queste riflessioni possano essere non soltanto apprezzate ma anche e soprattutto condivise perché c'è necessità che tutta Italia, non la sola Calabria, dia attraverso i social dei segnali forti, inequivocabili, di volere il cambiamento perché a partire dalla sanità si può realizzare un formidabile cambiamento che nel rispetto delle prerogative garantite a chi fa sanità da privato, metta però al centro la sanità pubblica per la miseria ed è dalla Calabria che bisogna partire e perché questo avvenga c'è necessità che appunto in Calabria venga mandata una squadra formidabile, una squadra emergenziale, una squadra che ci faccia sentire finalmente sulla strada della vittoria e come si suol dire da tante parti noi siamo on the road come Kerouac. Oggi abbiamo registrato 376 casi di tamponi positivi in Calabria con 5 decessi. Il numero è leggermente inferiore a quello degli ultimi giorni ma per le strutture sanitarie della nostra regione questi numeri sono intollerabili perché chi è calabrese, ma non soltanto calabrese, sa che in Calabria il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di rispondere ad una virulenza della pandemia che si faccia. ... ... ... ... Addirittura, insomma, questa attesa inizia ad essere di 7, 8, fin anche 10 giorni. Io ho ricevuto una mail triste, triste ed appassionata, da parte di un ragazzo di Rende che mi ha raccontato la sua vicenda per mail. Poi ci siamo sentiti per telefono perché ho chiesto a lui il telefono cellulare, me l'ha dato. E francamente quello che ho ascoltato non solo non mi piace ma è inaccettabile perché non si può dover dal 25 ottobre rimanere quarantenato in isolamento volontario avendo coinvolto l'azienda sanitaria provinciale senza essere contattato immediatamente, sollecitamente per essere poi convocato per effettuare tampone il giorno 3 novembre ed oggi, oggi 11 novembre, questo ragazzo ancora non aveva avuto l'esito. E mi è stato detto dallo stesso ragazzo che con tutta probabilità l'esito lo potrebbe avere venerdì 13. Quindi il tampone il 3 novembre, l'esito si spera il 13 novembre per una situazione di quarantena che si è cominciata il 25 ottobre. Così non si va da nessuna parte, cari amici miei, che gestite l'usca di Cosenza. Però accanto a queste notizie, per cui avremmo ancora in lavorazione 2 mila tamponi e si sta chiedendo di poter processare tamponi anche fuori regione perché a distanza di mesi e mesi da quando la pandemia è scoppiata ancora in regione Calabria non abbiamo la capacità di processare tamponi per come si dovrebbe ad accompagnare queste notizie, ci sono anche notizie positive. E così dopo che abbiamo scoperto, grazie al sindaco di Gioia Tauro che ha dato la notizia, che presso l'ospedale della città portuale, della città di Gioia Tauro, sono stati allestiti, in fretta e furia evidentemente, 40 posti letto Covid. Adesso oggi apprendiamo che altri 12 posti letto Covid vengono approntati presso l'ospedale di Reggio Calabria. Se voi ci pensate, perché tutti quanti voi avrete seguito la performance televisiva a titolo quinto del generale Cotticelli quando diceva che di fatto rispetto all'inizio dell'emergenza pandemica il numero di posti letto Covid in Calabria sarebbe stato incrementato di sole 6 unità, se voi ci pensate, a fronte di quei 6 posti letto di cui diceva il generale Cotticelli, noi nel giro di poche ore abbiamo trovato 40 posti letto a Gioia Tauro e 12 a Reggio Calabria. Sono 52 e mi limito alla provincia di Reggio Calabria, che non è neanche quella demograficamente più rilevante. Abbiamo anche appreso che domani, per manifestare davanti Palazzo Chigi, si riuniranno i sindaci dei capoluoghi di provincia calabresi, perché la Calabria merita rispetto e non posso che ricordare a questi sindaci che lo merita oggi così come lo meritava dieci anni fa, cinque anni fa, quindici anni fa, quando tanti hanno spolpato la sanità calabrese e nessuno, nessuno, fra coloro che oggi si lamentano, magari all'epoca faceva sentire la sua voce, però meglio tardi che mai, apprendo anche che il governatore FF, facente funzione, il governatore Spirli, oggi avrebbe dichiarato, anzi ha dichiarato, che la Calabria, commentando la notizia che potrebbe essere Gino Strada, ad intervenire finalmente per assumere la responsabilità di risollevare il servizio sanitario nazionale nella nostra regione, insomma, il facente funzione Spirli ha detto che la Calabria non ha bisogno di missionari. Certamente, io non credo che Gino Strada si sia offeso, si sia in qualche modo anche preoccupato per questa straordinaria battuta di Spirli, forse parecchi non lo conoscono, andate in rete, cercate Spirli, troverete di tutto e di più, un nome, una garanzia. Il punto è che la Calabria necessita di ben più che missionari, necessita di un esercito di rivoluzionari, che facciano saltare, politicamente parlando, e anche professionalmente discettando, tutte quelle teste di presunti professionisti della medicina e della sanità, che si trovano a capo di organizzazioni sanitarie semplici o complesse, senza aver altro titolo che la vicinanza o la relazione con il politico, che all'epoca ha avuto la possibilità di inserirlo al vertice di quella struttura. Se questo avverrà, e io mi auguro che questo avvenga, ed io sto lavorando insieme a tanti colleghi affinché questo avvenga, se questo avverrà, grazie, ormai non possiamo più nasconderci, grazie a Gino Strada, e alla sua volontà di riportare al centro la sanità pubblica, beh, tanti avranno da trovarsi probabilmente altra occupazione. O comunque avranno da lavorare. E tanto! E allora voi capite che anche semplicemente la notizia di poter mettere Gino Strada al servizio della sanità pubblica dapprima in Calabria e magari poco alla volta anche nel resto del paese ha prodotto panico, ha fatto paura a tanti, che adesso evocano missionari oppure trovano posti letto dopo che per mesi posti letto Covid non erano stati individuati. A me fa piacere tutto questo. Ma se soltanto la paura di aver Gino Strada che metta mano alla sanità regionale in Calabria riesce ad ottenere questi risultati, immaginate che cosa possa fare. La presenza, l'operatività, l'azione di un uomo, ma soprattutto di un'organizzazione che saprebbero infondere in Calabria, ma anche in Italia, entusiasmo. Io non vi nego, ho ricevuto diverse telefonate di medici, professionisti, calabresi che si trovano anche fuori dalla Calabria e che mi hanno dato la loro disponibilità, qualora Gino Strada dovesse essere messo a capo della struttura commissariale, per poter svolgere un qualunque ruolo pur di correggere le storture che affliggono da troppo tempo ormai il servizio sanitario calabrese. Per chi non lo sapesse, noi abbiamo due aziende sanitarie provinciali, esattamente quella di Reggio Calabria e quella di Catanzaro, sciolte per infiltrazione di indrangheta. Abbiamo debiti accertati per l'azienda sanitaria territoriale di Reggio Calabria ammontanti a oltre un miliardo, per quella di Cosenza sono circa più di 500 milioni di euro. Senza considerare, cari amici, il cosiddetto contenzioso che è inimmaginabile e volendo razionalmente anche ipotizzare che una percentuale del 50% possa vedere lo Stato vittorioso e l'altro 50% però possa vedere soccombente lo Stato e dunque la Regione. Le cifre per cui le strutture, le aziende cosiddette sanitarie calabresi risultano indebitate sono cifre folli, inimmaginabili senza che poi vi racconti purtroppo la tragica storia dell'assenza di contabilità scritta presso alcune aziende sanitarie in particolar modo nel Regino per cui vengo a scoprire che in pratica non c'è contabilità era orale. Non so se qualcuno mi capisce, mi intende siamo ai tempi di Omero quando non c'era la scrittura e quindi la trasmissione del sapere avveniva oralmente. In Calabria, territorio che apparteneva a Megale e Ellas, si faceva la stessa cosa. E poi qualcuno ricorderà anche che un commissario mandato a capire come metter mano alla contabilità presso l'azienda sanitaria di Locri tal Fortunato Campolo beh, quel commissario è morto, ufficialmente suicida in realtà molti ipotizzano che forse non sia stato un vero e proprio suicidio. Ma questo insomma è uno dei tanti aspetti che rende la situazione calabrese inquietante per non dire avvilente. E allora, questo vi chiedo noi abbiamo la possibilità di far capire a tanti perché Gino Strada fa paura a tanti che sono trasversali e che riescono anche a muoversi all'interno di mondi apparentemente illibati e puliti. Benissimo, noi da cittadini comuni possiamo sui social possiamo pubblicamente possiamo mediaticamente con un semplice hashtag sulla strada giusta mandare un segnale che dovrà essere recepito ai più alti livelli perché c'è la possibilità di ravvedersi e capire che quanto magari era possibile una settimana fa 30 giorni fa adesso non è più realizzabile adesso c'è necessità di promuovere una rivoluzione che sia culturale e proprio perché culturale anche politica non c'è nulla di più politico che gestire la sanità pubblica e garantire il diritto alla salute in un territorio considerato e nessuno se la prenda l'ultimo degli ultimi quello calabrese e se noi allora dovessimo smetterla con i tanti troppi casi di mala sanità se noi dovessimo ridurre l'emigrazione sanitaria e con essa la spesa che annualmente grava sulla regione Calabria per pagare le prestazioni sanitarie che i calabresi si vedono costretti a ricevere in tante altre regioni per cui al danno la beffa perché già i soldi in Calabria sono pochi ma se poi quei pochi debbono andare in Lombardia in Veneto nel Lazio diventano ancora di meno e se poi pensiamo che magari in Lombardia in Veneto nel Lazio noi cittadini calabresi costretti ad emigrare perché la struttura sanitaria calabrese non ci garantisce cure adeguate e serie e poi quando andiamo là troviamo medici calabresi scusate allora tutto questo può e deve essere oggetto di intervento facciamolo cerchiamo di far capire a tutti quanti noi che si può essere sulla strada giusta soltanto con Gino Strada io vi chiedo scusa ma adesso debbo volare nuovamente in aula perché si voterà il provvedimento che introduce ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid vi saluto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti